Onorevole Gianfranco Rotondi, membro della Commissione Cultura della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana. Oggi abbiamo presentato un suo libro ed è a lui che rivolgiamo una domanda. Quale classe politica necessita per combattere le due grandi emergenze, pandemia e guerra, sul ricordo, sulla scia e sulla memoria dei grandi uomini di Stato e dei grandi politici con la P maiuscola? Pandemia e guerra sono scenari giganteschi e terribili. Richiederebbero forze politiche come quelle di cui abbiamo parlato in questo evento. Oggi la democrazia cristiana e in certo modo lo stesso Partito Comunista. Grandi forze politiche proiettate sullo scenario internazionale, dotate di collegamenti che consentivano ai loro leader di interloquire e di agire sui destini del mondo. Tutto ciò oggi non vi è più. L'ultimo protagonista attivo sulla scena mondiale è stato Silvio Berlusconi. Oggi non abbiamo né partiti né classi dirigenti che corrispondano a questa emergenza e penso che il ritorno a scuole politiche e a culture politiche tradizionali sia l'auspicio che dobbiamo farci in vista di elezioni politiche che speriamo non replichino all'infinito l'attuale conformazione del sistema politico italiano.